Carissimi fratelli e sorelle, eccoci di nuovo qui. Domenica prossima, 22 maggio, sarà la sesta domenica del tempo di Pasqua. Il Vangelo è un brano tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti dal 23 al 29. Siamo nel grande discorso che il Signore Gesù fa nella notte prima della Passione. Il Signore Gesù fa presente ai Suoi discepoli che Lui si è rivelato a loro e fa presente l'amore, l'amore per Lui, che è verificato in qualche modo. Trova la sua cartina tornasole dal momento che è così difficile per i discepoli allora, così come per noi oggi, capire come amare il Signore. E quand'è che lo stiamo davvero amando e non ci stiamo ingannando sull'amore verso di Lui? Ebbene, dice il Signore Gesù che se mi amate, osserverete i miei comandamenti. È una cosa molto importante, ecco, vedere che il nostro amore diventa desiderio di custodire, ascoltare, mettere in pratica la parola del Signore. Una parola che porta alla vita, una parola che indica qual è la vera felicità dell'uomo. Ecco, credere alle parole di Gesù come comandamenti, cioè come parole di vita, è molto importante per noi, è molto importante ancora oggi. Ecco, e questo ci dà la possibilità di vedere a che punto sta il nostro amore verso il Signore. Perché tra stati d'animo e momenti della vita differenti, tra alti e bassi, è un po' difficile per tutti noi a volte capire se davvero stiamo amando il Signore o non piuttosto stiamo ingannando noi stessi. Un po' come succede per Pietro che il giorno prima, anzi qualche ora prima di tradire il Signore Gesù, si trova a promettere di seguirlo fino alla passione e fino alla croce. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, lasciamo che possiamo comprendere che è davvero l'amore il motore di tutto, il motore di tutto nella vita cristiana. Il sentirci amati da Gesù, ecco, che possa produrre in noi questa gratitudine. Osserviamo il suo amore, fermiamoci a contemplarlo, viviamolo nell'ascolto della parola, nella celebrazione dei sacramenti, nella preghiera, affinché possiamo avere la forza di osservare, di conservare dentro di noi come preziosi tutti i Suoi comandamenti. Perché i comandamenti non sono ordini dati da chissà quale autorità. I comandamenti nel messaggio biblico sono, ecco, sono la strada della vita, la strada della felicità. Il Signore Gesù ci promette che ci dona un paraclito, un consolatore, lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci aiuta a ricordare le parole di Gesù. È lo Spirito Santo che ci aiuta a vedere, ecco, come queste sue parole si compiono nella nostra vita. Quanto è bello che in mezzo a tutto il nostro vortice di pensieri arrivi a un certo punto il ricordo delle parole del Signore. Il suo ricordo, il ricordo dei Suoi benefici, il ricordo della Sua presenza. Sì, perché ecco, nell'osservare i comandamenti riceviamo questo dono, che il Padre e il Figlio prendono di mora dentro di noi. E lo Spirito Santo ci ricorda tutto questo. Lo Spirito Santo ci ricorda le parole di Gesù e allora accogliamole. Quando ci viene in mente la parola del Signore, a volte potremmo pensare che non c'entra niente in quel determinato momento. In realtà c'entra, e c'entra sempre, e c'entra molto, e abbiamo bisogno di riconoscere sempre di più che c'entra. E inoltre lo Spirito Santo fa anche un'altra operazione, insegnare. Ecco, quanto bisogno abbiamo di accogliere questa notizia che lo Spirito ci insegna. Noi siamo abituati a ritenere che le persone brave, riuscite, preparate, non hanno nulla da farsi insegnare. Beh, non è esattamente così, insomma. Delle cose del Signore, chi può mai presumere di aver imparato tutto? Quanto abbiamo bisogno che il Signore ci insegni e quanto le nostre cadute, i nostri momenti di confusione ci indicano che abbiamo bisogno di imparare, che abbiamo bisogno di apprendere da Lui, che solo in Lui abbiamo la vera conoscenza. Ecco, il Signore Gesù ci lascia la sua pace, ma non come la dà il mondo. Noi nel mondo vediamo difficoltà nel trovare pace. Noi nel mondo vediamo la pace concepita come equilibrio tra forze. Nel mondo vediamo la pace come un compromesso tra interessi o la ricerca di un'assenza di guerre. Ma molto difficilmente ci si arriva e in realtà non è quella vera pace. Non è la vera pace neppure la ricerca di una comodità, di un'assenza di problemi o di un limitare il numero di problemi. Non è quella la pace. Cristo che risorge dai morti è la nostra pace. Cristo che vince la morte è la pace. La pace è un frutto dello Spirito Santo e non un concentrato, una combinazione dei nostri interessi umani, una definizione delle barriere che mettiamo tra gli uni e gli altri, un patto per non invadere gli uni la libertà degli altri. No, non è davvero quella la pace. Ecco, il Signore Gesù davvero è sempre con noi attraverso il dono del Suo Spirito e ci vuole donare la Sua pace, una pace che accompagna anche nella strada della croce, nel momento della tribolazione, di fronte alla paura. Ecco, il Signore Gesù è la Sua pace che vuole albergare in noi. ed è importante che noi sappiamo riconoscere tutto questo, che le parole del Signore sono vita, che attraverso l'osservanza si concretizza il nostro amore. Vediamo che c'è già in noi l'amore per il Signore quando osserviamo i comandamenti. E' importante che vediamo, che percepiamo, come lo Spirito ci ricorda le parole del Signore, ci insegna le cose future. E' importante riconoscere nel Signore la nostra pace. Perché? Perché poi nella vita ci rendiamo conto come queste parole del Signore sono una promessa che si compie, che si avvera continuamente. E per noi contemplare la fedeltà del Signore alle Sue promesse è molto importante. Saper verificare come le Sue parole sono autentiche è davvero una questione decisiva, come Lui dice ai Suoi discepoli, prima della Sua passione, prima che vedano perfettamente compiuta nella loro vita questa parola del Signore, questa opera dello Spirito in loro. Ci vediamo presto, arrivederci.